Lo chiameremo con il nome che ti ho detto, quale? Piri piri piri, piiri piri piri, piiri piri, piiri piri piri, ancora? Strainino! Ciao bimbi, io sono Silvia, lei è Roberta e lei è Marta e oggi siamo qui a Serena Majestic insieme alla nostra migliore amica Serenella per imparare tutti insieme la coreografia di Piri Piri Piri. Allora se siamo pronti direi di partire subitissimo con la spiegazione delle strofine. Quindi partiamo con la testolina per otto volte. A destra, sinistra, destra, sinistra, ancora per quattro. Poi andiamo ad imitare con le manine un martellino sempre per quattro volte. Quindi uno, due, tre, quattro. Andiamo a mettere le manine sui fianchini e andiamo a fare un grosso giro col bacino. Dopodiché aggiungiamo le manine sempre per otto volte. Quindi uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. E passiamo subitissimo al ritornello. I primi quattro Piri Piri li andremo a fare normali. Quindi Piri Piri Piri, Piri Piri, Piri Piri, Piri Piri, Piri Piri, Piri, Piri. Piri Piri, 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 Piri e... Gampina, 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 Gampina e gli ultimi quattro li andiamo a fare battendo le manine. Quindi Piri 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 e... Mani! 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 Io direi che con la spiegazione ci siamo e siamo prontissimi per ballarla tutti insieme! Ho un motivetto fisso nella testa, quando lo sento sai mi viene da fare festa! Come un martello che batte tutto il giorno, è un movimento che va da contorno! Piri, 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 piri! Ora conosci questo rompicapo, aggiungi un movimento a quello che hai iniziato, così faremo insieme un bel balletto! Lo chiameremo con il nome che ti ho detto, quale? Piri, 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 piri! Trainino! Divertimento! Divertimento, questo è puro sballo, il piri, 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 non si pensa, devi farlo! Aggiungi ancora un altro movimento, se ci riesci puoi capire cosa sento! Piripiripiri, 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 piripiripì Ancora Piripiri piripiri, piripiripiri, piripiri-piri-piri Di nuovo Piripiri piripiri, piripiri piripiri, piripiri-piri-piri-piri, piripiri-piri-pì Ora è completo ed anche è un po' vostro Questa canzone nella testa va ad incastro La ballerete sempre ad ogni ora, e quando finirà voi ne vorrete ancora di cosa? Piri, 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 p Ciao bimbi!